L'impegno dell'amministrazione Grillo per rendere pulite e accogliente Marsala è costante e quotidiano. Ieri sera inoltre è stata anche avviata un'azione di pulitura straordinaria delle basole del centro storico a iniziare da Piazza della Repubblica. Come amministrazione stiamo investendo tantissimo sulla pulizia del nostro territorio, precisa l'assessore all'ambiente Michele Milazzo. Sistematicamente interveniamo sulla raccolta dei rifiuti rivolgendo appelli alla nostra comunità affinché ci collabori. Al tempo stesso però agiamo anche in altre direzioni. Da ieri sera abbiamo infatti avviato una pulizia straordinaria del basolato che insiste nel centro storico a cominciare da Piazza Loggia dove peraltro nelle scorse settimane con una speciale apparecchiatura erano stati rimossi i residui dei chewing gum. Oltre a questo abbiamo provveduto alla disinfettazione e alla deratizzazione di questa parte del centro storico. La nostra azione di pulitura è bonifica da zanzare e altro non si fermerà alla zona storica ma interesserà tutta la città.